Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Si è dimesso Flavio Destro. L'allenatore del Fano ha gettato la spugna dopo la terza sconfitta consecutiva. È il 3-1 sul campo della Virtus Verona, coi veneti che hanno ribaltato l'alma dopo l'autogol dipinto in avvio di partita. Purtroppo, nel calcio, quando le cose vanno male, c'è solo una soluzione. ha fatto scrivere Destro nel comunicato pubblicato dal club Granata. Il tecnico piemontese, a scolano di adozione, a novembre era subentrato a Marco Alessandrini. Ora saluta l'alma dopo 24 partite. Bilancio, 4 vittorie, l'ultima a Mantua il 21 febbraio, 12 pareggi e 8 sconfitte. Per la società del presidente Enrico Fatò-Fidani, che già dopo il K.O. di Verona aveva preannunciato momenti di riflessione, sono ore calde. Sotto contratto c'è ancora Alessandrini, allontanato dopo i tre punti rastrellati nelle prime otto giornate di campionato. Ma l'allenatore senigalliese non si sarebbe lasciato benissimo con la società. Di sicuro c'è poco tempo. Domenica, allo Stadio Mancini, alle 15, c'è il derby contro la Bispesaro. Un derby che pesa tantissimo in chiave salvezza. Alma, terz'ultima in classifica, Cugini appena fuori dai play-out, 6 punti sopra. Con una sconfitta per i Granata, a 6 giornate dalla conclusione del torneo, potrebbe davvero essere la fine.